Politica immigrazionista, non so a chi si riferisce, perché in questo momento il ministro dell'interno si chiama Matteo Sardini. Abbiamo detto che ha i consensi dell'universo. Allora facciamo l'ideologia immigrazionista. Ah, l'ideologia immigrazionista. Allora non si può... Cioè, questo vuol dire che secondo lei uno non può avere un'idea diversa dalla vostra... No, a che scorsiamo? Io vedo la strumentalizzazione opposta. Dico che secondo me non aiuta, sarò libero di pensare. La strumentalizzazione opposta, se io scorro i suoi social, i suoi twitter, io vedo che ogni caso di cronaca nera in cui si è coinvolto, anche per sbaglio, una persona o immigrata o con la pelle di colore diverso, rimbalza che è una bellezza. Non c'entra niente il tema della pelle. No, scusi, non c'è niente, però non c'entra niente. No, scusi, siccome lei ha detto una cosa grave e io a questo non lo consento, adesso su questo cerchiamo di essere precisi. Il tema della pelle diversa non c'entra assolutamente niente. Io cito i fatti dell'immigrazione, poi arriviamo al tema del razzismo perché adesso mi sto stufando, io cito i fatti dell'immigrazione irregolare perché considero una responsabilità dello Stato italiano nel non aver saputo governare il fenomeno dell'immigrazione quando ci sono dei reati commessi da immigrati clandestini. E quindi ritengo di dover segnalare allo Stato italiano un problema che voi fate, che molti fanno finta di non vedere, compreso lei, e cioè che a un'immigrazione incontrollata corrisponde un aumento dei reati, perché sono dati del Ministero degli Interni. Gli immigrati incidono per l'8% sulla popolazione italiana e per il 37% sui reati di stupro, che significa che c'è un problema. Significa che gli immigrati sono dei stupratori. Lei sta comunicando che gli immigrati sono tutti dei stupratori. E sono dati, siccome la politica, i numeri non sono attivi, scusi, i numeri, certo, ma è un problema di incidenza. Io sto dicendo una cosa seria però, cerchiamo di essere seri, io sto dicendo, esiste o non esiste, scusi, dammi là, esiste o non esiste, mi risponda lei, un'incidenza maggiore di reati commessi dagli immigrati in Italia in rapporto alla popolazione? Sì o no? Non la seguo su questo ragionamento. No, non mi segue perché lei non mi può rispondere, sì. Ma non la seguo perché allora vado a vedere i numeri degli italiani. Ma che c'è, vediamoli. Perché lei non fa mai un tweet su un italiano che ha, perché non ha mai fatto un tweet su un italiano che ha scoprato una donna, è successo a un italiano. Non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Io faccio tutti i tweet su tutti i temi. Evidentemente anche sui suoi social hanno un'incidenza maggiore di immigrati. Sui temi, non di cronaca, perché io non faccio la cronaca. Io mi occupo di parlare di quello che la politica può risolvere. Emergenza scubre, ieri a Torino un clandestino ha violentato una ragazza. È così, sono fatti che capitano. Poi voi non ne parlate, perché nel vostro circuito mentale si deve occupare delle donne violentate, purché il violentatore non sia un immigrato, perché il immigrato batte donne violentate. E io non sono d'accordo, penso che sia un modo stupido di vedere le cose. Dopodiché, adesso parliamo del razzismo. Io sono stata anche a Ferrara a parlare di un problema che ce l'ha stato con la mafia nigeriana. Anche qui io seguo il tema della mafia nigeriana, non interessa a nessuno. avessi sentito una volta il guru dell'antimafia Roberto Saviano dire una parola sulla mafia nigeriana. Eh, perché non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. Non legge Saviano. No, infatti, non tutto. Comunque vorrei ricordare... No, 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 mi faccia la parola dire una cosa. No, adesso, specchi un attimo. La raccusa grave, scusi. La raccusa di razzismo è una cosa grave e devo rispondere su questo. Meloni, le do subito la parola. Vediamo.